Senza dubbio un fulmine a ciel sereno, segnalazione della Procura federale, prova televisiva. Ne due giornate di squalifica inflitta a Francesco Zampano, si legge nel dispositivo per condotta gravemente antisportiva del difensore che ha impedito la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano sinistra, condotta gravemente antisportiva non percepita da Irrati, arbitro del match Giano Pescara. In parole povere, Zampano con dolo avrebbe impedito la realizzazione del gol. Immagini eloquenti, alla deviazione di Ocampos che anticipa Crescenzi, il terzino Biancazzuro si oppone col corpo, nella fattispecie con la coscia e subito dopo il pallone carambola sulla mano sinistra. Chiamasi gesto istintivo che stride fortemente con la condotta gravemente antisportiva come scritto sul comunicato e quindi con il dolo. Per questo la società ha annunciato il ricorso con procedura d'urgenza avverso la squalifica per due giornate. Sarà esaminato venerdì dalla Corte d'Appello Federale. Insomma, Preziosi ha alzato il polverone e di conseguenza il procuratore federale ha agito. Pescara protetto dai poteri forti, bah, è proprio il caso di dire che Preziosi ha perso l'ennesima occasione per tacere.